siamo andati a disneyland ed ecco quello che ho mangiato oggi come colazione ho mangiato queste palline di gelato poi ho mangiato questo gelato a forma di topolino poi ho mangiato un altro gelato si è buono poi ho mangiato questi popcorn molto rari che sono veramente buonissimi guardate sono di colore rosa poi ho bevuto qualcosa per mandare tutto giù oh ci voleva poi avevo ancora fame ed ho mangiato una pizza con l'ananas non mi bastava ed ho mangiato questa brioche poi ho mangiato un osso proviamolo buono buonissimo per non mancare anche questa torta poi mandiamo tutto giù aspettate ho mangiato una pizzetta per cena ho mangiato dei ravioli spaghetti giapponesi lasciate un mi piace per vedere un cibo raro un paperino mangiamo questo dolce di paperino è gelatinoso e voi cosa avete mangiato oggi commentate